un altro sabote notizie dalle nostre pro... giuliano! beh scusemi se avesse ogni tan vedre moverse la videocamera ma quel giuliano l'ilma magna quintal de ovia pasqua il gacchina panza che ressa i tadarghe dentro al cavalet comunque spero che aveghe passà una buona pasqua nel subito a veder cosa che i ha fatto quei della proloco de sagro miss per realizzare qualcosa che riunisse virtualmente la nostra comunità pasqua abbiamo organizzato qualcosa di semplice come una lotteria ma con dei premi davvero speciali tutti i prodotti del nostro territorio e delle eccellenze locali il nostro contributo a queste realtà in un momento così difficile ma soprattutto un modo per valorizzare il nostro territorio un'attenzione particolare l'abbiamo rivolta ai bambini ad ognuno abbiamo regalato un coniglio di cioccolato artigianale ed un pulcino in adozione di un'azienda agricola locale davvero una maniera eccellente per aiutare l'economia locale e se la parola d'ordine de ancoil è aiutar scoprì come alcune proloco le sta salvando nel loro piccolo l'ambiente a comano le proloco danno un aiuto concreto alla comunità invitando tutti a pulire le strade e i sentieri dai rifiuti un'iniziativa partita dal comune per responsabilizzare i cittadini del proprio territorio un altro aiuto diverso ma essenziale e ne arriva dalla proloco di mezzo lago vediamo un piccolo gesto che potrebbe fare la differenza i volontari della proloco di mezzo lago hanno installato il primo defibrillatore a disposizione dell'intera comunità un aiuto che podria salvarna vita sei quasi arrivati alla fine ed è o grazie che il giuliano non ha ancora batuntera la videocamera per tutte quelle proloco onde a farade a cambiare statuto e ad adeguarsi alle nuove normative vi ricordiamo che sto pomeriggio che sarà un incontro sulla pagina facebook dell'umpli nazionale dedicato alla riforma del terzo settore e sarà presente uno dei massimi esperti dell'argomento Gabriele Seppio, aveteci a panota? come al solito concluden con le parole della nostra volontaria Giulia della proloco Piana dell'Omaso ciao Giulio Giuliano la proloco ho portato me stessa con i miei pregi, con i miei difetti senza paure, senza pregiudizi essendo semplicemente io con la mia passione infinita per la mia terra, per la mia gente e con la voglia di mettercela sempre tutta e dare sempre il massimo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti